Il vostro naso è chiuso da tempo e voi non sapete perché. Le cause in genere sono o una deviazione del setto nasale, o un'ipertrofia dei turbinati, una poliposi nasale che si può estaurare per cause allergiche. Varie sono le cause, ma il risultato è lo stesso. Non respiriamo più col naso, respiriamo prevalentemente con la bocca. Una cosa tira via l'altra e abbiamo delle grosse difficoltà. Ho fatto una serie di video su tutte le patologie che colpiscono il naso e potete andarli a cercare e potete sicuramente trovare la causa che vi affligge, quindi con le eventuali soluzioni terapeutiche. In ogni caso io sono a vostra disposizione, qualora non respirate col naso, non aspettate, prendete appuntamento nel mio studio e sicuramente riuscirò ad aiutarvi.